Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re Salvatore Rendentore, Yahawa Shai, e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità. E come sempre pace e saluti alla casa di Yasharallah che vuol dire Israele, ok? A coloro che con sincerità cercano questa verità, a coloro che stanno lavorando nella vigna in questi ultimi giorni, miei saluti. Quindi questa lezione è una sorta di incoraggiamento a coloro che stanno, sì, cercando con sincerità la verità, a coloro che hanno cominciato ad abbracciare questa verità. Questo è una sorta di incoraggiamento e il titolo sarebbe, ci devo ancora pensare per un titolo ma penso di darle un titolo simile a Non Mollare, ok? Per iniziare andiamo a leggere dal libro di Genesi, libro di Genesi capitolo 32 E prima di tutto questo è una cosa che è successo al nostro nostro padre, nostro padre che è Giacobbe, no? Che noi tutti i figli di Israele veniamo dal lineaggio di Giacobbe, ok? Per capirne di più basta andare a vedere i video che ho fatto in passato E sì, Giacobbe e il suo nome poi è stato cambiato a Israele, ok? E la pronuncia giusta nell'ebraico antico sarebbe Yasharallah, ok? Perciò vuol dire il principe del potere, ok? E che cosa volevo dire? C'è stato questo racconto che è successo a lui E questo racconto è una cosa che succede a tutti noi, ok? Tutti noi che accettiamo la verità, ma succede in maniera spirituale e diverso, ok? Ora andiamo a vedere Questo è Genesi capitolo 32, inizio da versetto 24 Che dice Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto L'altro gli disse Qual è il tuo nome? Ed egli rispose Giacobbe Quello disse Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele Perché tu hai lottato con Yahweh e con gli uomini e hai vinto, ok? Giacobbe gli chiese Ti prego, svelami il tuo nome Quello risposta Perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì Giacobbe chiamò quel luogo, Peniel Perché dice Ho visto Dio, Yahawa Faccia a faccia E la mia vita è stata risparmiata, ok? Perciò questo racconto è bellissimo Perché ora vi faccio vedere attraverso i poteri del Padre Yehovah Hashem, Yehovah Shai Che cosa vuol dire questo È successo a Giacobbe Ha lottato con Allora è successo prima perché lui è uscito dalla casa di suo suocero E doveva vedersi con suo fratello Esau Dopo tanto tempo Era un po' intimorito che Sì, Esau l'avrebbe fatto male Perché Esau aveva giurato di ammazzarlo Appena lo vedeva E Sì, è successo che lui si è trovato durante la notte con questo uomo Che alla fine non era un uomo Era un messaggero del Padre, Yahawa Ok, era l'angelo E questo uomo lottò con lui tutta la notte Ok Ora iniziamo a leggere Giacobbe rimase solo E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba E questo è quello che succede a ognuno di noi Una volta entriamo In questa verità Ok Lottiamo con noi stessi Lottiamo con 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 diverse cose Ok Tanti con diverse addizioni Tanti lottano con la droga Tanti lottano con 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 Diverse cose C'è chi Non Non si slega Dalla pornografia Dalle menzogne Da tutte queste cose mondane Ok Cominciamo a lottare Almeno per me Anch'io ho avuto della lotta Ok Facevo uso di stupafacenti E robe varie Ho dovuto lottare Pregando al Padre Di aiutarmi Ok Quando Ho cominciato A conoscere questa verità Ok E andiamo avanti Ed è la stessa cosa Che succede a tutti Ok Una cosa o l'altra Perché Quello che ci lega Con questo mondo Sono Sì Sono queste cose Qui Che sappiamo Che ci legano Con questo mondo Che Cioè Ci impediscono Di fare quei passi Là Come ha fatto Giacobbe Per arrivare al punto Di fare parte Di avere il nome cambiato E avere la sua benedizione Ok Tanti di noi Non vogliamo Molare certe cose Alcuni Non vogliono Molare Menzoni Alcuni Non vogliono Molare la droga Alcuni Non vogliono Molare La sigaretta Per dire Alcuni Non vogliono Molare Diverse addizioni La pornografia Diverse cose Che li Che li mandano Sempre In tenebre Allora Se uno Non ha il coraggio Di mollare Queste cose Qui Non riesce È una lotta Continua Devi lottare Contro queste cose Qui Infatti Devi lottare Per avere la tua posizione Nel regno Ad avvenire E leggiamo Quando quest'uomo Vide che non poteva Vincerlo Li toccò La giuntura Dell'anca Ok E abbiate E abbiate in mente Che Lo sport Della lotta È uno sport Stancante Molto Stancante È uno sport Che bisogna Avere Forza Bisogna Avere Davvero La forza Per fare Questo sport Qui Uno Priva di forza Non riesce Si Verrà battuto Subito Ok E vedete Cosa ha fatto Giacobbe Giacobbe Ha lottato Ha fatto Stancare L'angelo Lui Ha lottato Contro un angelo E l'ha fatto Stancare Ok E poi Giacobbe 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 Fu slogata Ha slogata La giuntura Dell'anca Di Giacobbe Tanti di noi Mentre lottiamo Contro tante cose Qui La slogatura La gente Ci viene contro La famiglia Ci viene contro La gente Comincia a dire Diverse cose Una volta Che vedono Che questa luce Si sta Prendendo Sempre più forma Nella nostra vita Stiamo cambiando Stiamo lasciando La vita La vita vecchia Che è la vita Degli zombie Stiamo smettendo Di usare Le droghe Stiamo smettendo Di fumare Sigarette Stiamo smettendo Di essere Ubriaconi Dalla mattina Alla sera Stiamo smettendo Di guardare La pornografia Di seguire Diverse donne Quando iniziamo A fare queste cose Qui la gente Comincia a vederci Strano Ed è strano Questo Perché Uno Che viene La verità Le succede Sempre questo A tutti Non ne scampa Uno Anch'io Sono stato Perseguitati Da membri Di famiglia Dicevano Diverse cose Su di me E questo È la slogatura Se uno Se uno Non è forte In quel momento Mola Ok Perché non è facile Lottare E avere La giuntura Slogata Come Come aveva Giacobbe Ed è quello Che viviamo Spiritualmente Una volta Entriamo in questa Verità Qui Ok Abbiamo la La giuntura Slogata Spiritualmente Perché Cominciamo ad avere Diverse cose Diversi problemi Tanti cercano Di lasciare Magari Un lavoro Che non fa bene A loro Che li porta In la vita Che stanno Sfuggendo Ok E andiamo avanti A vedere Mentre Quello Lottava con lui Ok E lui Disse Lasciami andare Perché spunta L'alba Questo E' l'angelo Che dice A Giacobbe Lasciami Andare Perché spunta L'alba E questo E' lo spirito Che dobbiamo avere Dobbiamo lottare Con tutta La nostra forza Per fare parte Di questo Nuovo regno E ricordatevi Nessun peccatore Sarà In questo Nuovo regno Ok Nessun peccatore Sarà in questo Nuovo regno Nessun Nessun Idolato Sarà In questo Nuovo regno Dobbiamo lottare Con l'ultima Forza che abbiamo Ok Anche se ci costa Diverse cose Che Si Che non Anche se ci costa Tutto Dobbiamo lottare Anche se ci costa La vita Dobbiamo lottare Per fare parte Di questo Nuovo regno Queste sono Le persone Che il padre Yahu B'ashem Yahu Asshai Cerca Ok Non vuole uomini Femminiti Non vuole uomini Che si lasciano andare Tutto Ok E Giacobbe Non ti lascerò andare Prima che tu Mi abbia Benedetto Questo È lo spirito Noi non possiamo Mollare Questa verità Finché Arriviamo Al punto Di benedizione Del padre E la benedizione Viene in diversi modi Ok Vediamo che Il nostro spirito Si cambia Tanti di noi Vediamo che Magari Alcune malattie Che avevamo Una volta Alcune sofferenze Il padre Ci li solleva Ok Tanti Hanno lo spirito Di vita Ridata Dentro Ok Che questa è la maggior parte Di questa benedizione Qui Perché una volta Uno viene alla conoscenza Di questa verità Ok Prima Li si gasa Poi dopo Quando comincia a vedere Quante cose Deve mollare Per questa verità Comincia a rattristarsi A diventare triste Di nuovo Ok Ma se Noi lottiamo E arriviamo Al punto Ok Che il padre Ci rende più forti Ci rende Spiritualmente forti È tutta una gioia Immensa Cioè Non ci sono parole Per spiegarle Ok Gli dice Non ti lascerò Andare Prima che tu Mi abbia benedetto L'altro gli disse Qual è il tuo nome E gli rispose Giacobbe Quello disse Il tuo nome Non sarà più Giacobbe Ma Israele Il principe Del potere Questo è L'abitudine Che dobbiamo avere Questo è Lo spirito Che dobbiamo avere Ok Noi dobbiamo lottare Per meritare Il regno Ad avvenire Ok Questo regno Ci è tutto Ci è tutto Ok Perciò Cari fratelli Che state venendo In questa verità La strada È difficile È dura È ruvida È stretta Non è una strada Larga È liscia Che portano Tutti Alla morte Come stanno seguendo Tutti I cristiani Le religioni Tutto il resto Questa è una strada A parte Una strada Che ti rende Solo Ok Tante volte Ti resti da solo Senza amici Senza nessuno A chi parlare Ok Fa parte Di questa strada Questa fa parte Della lotta Ok È una lotta Spirituale E noi dobbiamo Dobbiamo non molare Dobbiamo far vedere A padre Che padre Noi vogliamo Questa Questa Cioè Questa benedizione Lo vogliamo Benedizione Di essere chiamati I tuoi figli Perché alla fine Sarà questo Nel nuovo regno Il figlio del padre Yahawasha Ci fa diventare I suoi fratelli Perciò Ci Ci Introduce A suo padre Come i suoi fratelli Il suo padre Comincia a vederci Il suo padre Yahawasha Che è padre di tutti Comincia a vederci Come i propri figli Come Yahawasha Ok E questo è Sta cercando Di rimetterti Nella famiglia sua Ok Perciò Noi Non possiamo Molare adesso Ora Prendiamo Alcuni versetti Poi chiudiamo Leggo dal libro Di proverbi Ok Capitolo 4 Versetto 13 Che dice Affera saldamente L'istruzione Non lasciarla andare Conservala Perché Essa È la tua vita Ok Quale è l'istruzione? L'istruzione È questa Conoscenza Della verità Sono i comandamenti Del padre Ok Noi dobbiamo Affermarla Dobbiamo afferrarla Saldamente E non mollarla Ok Perché È la nostra vita Andiamo a vedere Il libro di Romani Libro di Romani Scusatemi L'ho visto Ok Eccolo qui Romani capitolo 3 E leggiamo Versetto 4 Che dice Non di certo Anzi Sia Yahweh Riconosciuto Veritiere E ogni uomo Bugiardo Come è scritto Affinché tu Sia riconosciuto Giusto Nelle tue parole E Trionfi Quando sei giudicato Cari fratelli Questa via Questo è lo spirito Da avere Ok Questo è lo spirito Da avere Il padre Il padre è giusto Noi dobbiamo Sforzarci Di essere i giusti E qual è la giustizia? Cercare con tutto Il nostro Modo possibile E osservare I suoi comandamenti Uscire Dalle religioni Uscire Da tutte le menzogne E fare parte Della sua famiglia Che è questa verità Qui Usare i suoi nomi Giusti E mollare Quei nomi Pagani Ok Il nome del padre È Yahweh Il nome del suo figlio È Yahweh Shai Ok Leggiamo il libro Di Ecclesiaste Capitolo 3 E versetto 6 Che dice Un tempo Un tempo Per cercare E un tempo Per perdere Un tempo Per conservare E un tempo Per buttare via Cari fratelli Buttate via Tutto quello Che vi pesa Tutto quello Che vi farà Perdere Questo regno Non ne vale la pena Non ne vale la pena Quella droga Non ne vale la pena Quelle Quelle puttane Insomma Ok Non ne vale la pena La bugia Non ne vale la pena Il mondo Non ne vale la pena Quella carriera Che ti porta In fondo Al mare Non ne vale la pena C'è tutto quello Che il mondo Ha da offrirci Non ne vale la pena Ok E il regno È tutto Perché tutto ciò Che perderemo qui Guadagneremo Centomila volte Nel regno Ad avvenire È un regno Che nemmeno Le orecchie E gli occhi Hanno visto Ne sentito Quello che il padre Ha messo a parte Per coloro Che lo amano Ok È un percorso duro Ma Non possiamo Adesso Infatti Dico questo Anche perché Il macino Il V Ok Il V Sta venendo fuori Il vaccino Ok Tra poco Cominceranno A somministrarlo Ho fatto diversi video Facendovi vedere Che cosa è Ok Tanti Per paura Di non perdere I propri lavori Di non perdere Questo Di non prendere l'altro Prenderanno Tutto questo E ciao 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 a questo regno Qui Noi dobbiamo Lottare come Giacobbe Ok Leggiamo il libro Di Giacomo James Giacomo 4 7 Che dice Sottomettetevi dunque A Yahawa Ma resistete al diavolo Ed egli Fuggirà Da voi Avvicinatevi A Yahawa Ed egli Si avvicinerà A voi Pulite le vostre Mane O peccatori E purificate I vostri cuori O dopi D'animo Siate afflitti Fate cordoglio E piangete E non è tutto questo Che abbiamo detto Finora Soffrite la sofferenza Che c'è da soffrire Per mollare Tutto questo Per guadagnare Il regno Ok Perché non ne vale La pena davvero Ora stiamo dicendo Queste cose La gente Ci prendono in giro Non capiscono L'importanza Di questa cosa Che stiamo Cercando Di Di Comunicarli Ma quando cominciano A succedere Le cose Si ricorderanno Ma sarà Troppo tardi C'è Tutti Tanti vogliono diventare Lattisti Più bravi O chissà cosa Tanti vivono Per l'Oscar Per i trofei Del mondo Per la ricchezza Del mondo No Dovete aspettare Il regno Del padre Perché questo regno È degenerato È un regno Schifoso Nulla in questo regno Ne vale la pena Leggiamo velocemente Il libro di Geremia Geremia 29 E 11 Che dice Infatti Io so i pensieri Che medito per voi Dice il signore Pensieri di pace E non di male Per darvi un avvenire E una speranza Questi sono i pensieri Del padre per noi Il padre ci vuole bene Ecco perché Ha messo i suoi comandamenti Da seguire E se noi li seguiamo Questi comandamenti Noi invocheremo E lui Esaudirà I nostri preghiere Ok E veremo promessi Soprattutto Il regno Ad avvenire Saremo noi Re Ok A guidare Le poche sorelle Saranno le regine Ok A guidare Questo nuovo regno Che sta per arrivare Uno dovrebbe essere Proprio cieco Priva di spirito Affondato Nelle tenebre Per non vedere Che questo regno È alla sua fine E per chiudere Leggo Dal libro di Giovanni Scusatemi Allora Vangelo secondo Luca Vangelo secondo Giovanni Capitolo 8 E versetto 32 Che dice Conoscerete la verità E la verità Vi farà liberi Ok Questa è l'ultima parola Di questa lezione Conoscerete la verità E la verità Vi renderà liberi E io porto testimonianza Di questa cosa Conosco altri fratelli Che hanno ricevuto Questa verità Fratelli Che non pensavo Nemmeno Che potessero ricevere Questa verità E questa verità Li ha reso liberi A me Ha reso libero Libero Dalle catene Di questo mondo Qui Dalle menzogne Dalla speranza Falsa Di questo mondo Qui Questo mondo La versione La versione Della Bibbia Italiana Ok La traduzione Interconfessionale In lingua corrente Ok Proprio questo I C L O O D 00d Se cliccate Ha dei libri Che non sono Nei altri Ok Sono libri Molto importanti Da Da vedere Da sapere Che li hanno Li hanno tolto A posta Per nascondervi Delle cose Tipo il libro Il primo libro Di Maccabè Secondo libro Di Maccabè Sapienza Siracide Baruch Lettra di Geremia Supplementi Daniele Ok Sono libri Da leggere Io vi consiglio Di leggere Questi libri Di Esdra Ok Vedete Esta Greco Giuditta Tobia Ok Leggete questi libri Qui E vedrete Il motivo Perché Li hanno tolto Ok Detto questo Spero che Siete stati Edificati E spero che Qualcuno Si avvicinerà Sempre di più Al Padre Questo giorno Qui E mollare Tutte le catene Che li leggano A questo mondo Siate come Giacobbe Lottate Fino Alla fine Per questo Regno E Non pentirete Detto questo Do tutti i lodi Al Padre Yehawah Bahashem Yehawashai Bahashem Rukah Kodash Che questa Lingua Che ho appena detto È L'ebraico Ebraico Antico Che vuol dire Tutti i lodi Al Padre Yehawah Nel nome Di suo figlio Yehawashai E nel nome Dello Spirito Santo La Rukah Kodash Ok I miei doppi onori Agli apostoli Della Great Mewstone Per avermi insegnato Questa Verità I miei saluti A tutta la casa Di Israele A coloro che Con sincerità Cercano questa verità Shalawam Alla prossima Grazie a tutti Grazie.